Alla fine, la spuntata lei, Antonella Mansi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi, azionista di maggioranza dell'Istituto Senese con il 33,5% delle azioni, che nell'ultimo giorno di passione dell'anno vissuto pericolosamente dalla più antica banca del mondo, ha visto passare in assemblea la sua proposta di deliberare sì l'aumento di capitale da 3 miliardi di euro, ma non come invece voleva il Consiglio di Amministrazione guidato dal presidente Alessandro Profumo e dall'amministratore delegato Fabrizio Viola, nel mese di gennaio, bensì non prima del 12 maggio, ovvero in occasione della seconda delle tre finestre possibili previste dal piano di risanamento presentato alla Commissione europea. Potrebbe sembrare una pura questione di dettaglio, ma non è certamente così, dal momento che solo qualche giorno fa in una lettera di risposta della banca ad alcuni quesiti posti dalla Fondazione, proprio Profumo aveva messo in guardia dai rischi connessi al differimento dell'aumento di capitale, che se approvato avrebbe potuto portare ciascun membro del CDA ad assumere determinazioni di natura personale, leggi di missioni. Determinazioni che, dicono oggi Profumo e Viola, vanno prese a sangue freddo e nelle sedi opportune. Per conoscere il destino del management chiamato a risanare MPS dopo i disastri della gestione Mussari, bisognerà dunque attendere il Consiglio di Amministrazione di metà gennaio. Ma perché, secondo Profumo e Viola, l'immediato aumento di capitale era così importante? Innanzitutto perché, con 4 miliardi di Montibond da restituire, 2,8 entro il 2014, cominciarlo a fare dall'inizio dell'anno avrebbe permesso di risparmiare circa 30 milioni al mese di interessi? In secondo luogo perché, con un altro paio di grandi banche italiane in procinto di varare aumenti di capitale in vista degli stress test della Banca Centrale Europea, cominciare per primi avrebbe potuto rappresentare un notevole vantaggio competitivo nella raccolta di denaro, che con il passare dei mesi, anche visto l'approssimarsi delle elezioni europee, potrebbe diventare sempre più difficile e oneroso. Da dove arrivavano i 3 miliardi, lo dico onestamente, mi interessava poco, mi interessa poco, mi interessa che arrivino i 3 miliardi e che se la banca è ben gestita, la banca rimane autonoma e a Siena. Se non arrivano i 3 miliardi e la banca non è ben gestita, la banca scomparirà da Siena. Dal canto suo, invece, la fondazione, da sempre espressione della città, del territorio e della politica, ha ottenuto quello che voleva, tempo, tempo per cercare nuove alleanze ed acquirenti per il proprio pacchetto azionario, destinato inevitabilmente ad assottigliarsi. In ogni caso, infatti, Palazzo San Sedoni dirà addio al controllo della banca, ma con l'aumento di capitale differito, questo addio potrebbe essere meno doloroso.